Domenica non avete voluto ed è andata super bene. E' questo il contenuto di un SMS che Felice Bellini, attuale dirigente responsabile marketing della Vigor Lamezia, ha inviato lo scorso 21 aprile a Robert Farruggia, finanziatore della Combine, dopo aver chiuso positivamente la partita di calcio Barletta-Vigor Lamezia, valida per il campionato di Lega Pro. Entrambe le persone coinvolte sono destinatari di un provvedimento di fermo. Secondo quanto emerge dall'inchiesta sul calcio scommesse coordinate dalla DDA di Catanzaro, la partita era stata concordata e finì con il punteggio di 3 a 3. Questo avrebbe permesso a Bellini di vincere ben 18 mila euro. Farruggia, finanziatore maltese, non aveva partecipato alla scommessa e per questo era destinatario del messaggio, che come scrive il PM Elio Romano, sapeva di rivincita. Secondo il magistrato inoltre, Bellini era così convinto del risultato finale che avrebbe invitato diversi suoi amici a scommettere sull'evento.